Tommy e Giulia e si tira con la polca 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 si vola eccoli qua Giulia e Tommy eccoli Sono anche emozionati perché stanno parlando davanti al pubblico che li conosce bene, vero Tony? Bravissimi. Facciamo un bel giro di pista a prendere tutti gli applausi. Poi vi voglio raccontare un'altra storia. Ho chiesto una volta cosa vuol dire la E che c'è sul pantalone. Lui mi ha risposto, mio nonno è sempre con me. Pensate ragazzi di questa età con le radici veramente attaccate.